Con tutte le problematiche, con tutte le richieste da parte dei cittadini hai sempre la sensazione di aver lasciato indietro qualcosa, hai lasciato tante cose indietro, però anche nelle piccole cose, anche la richiesta del singolo che non sa a chi rivolgersi e si rivolge alla prefettura e quindi viene dal prefetto come ultima spiaggia, ecco questo è un fatto, ho ascoltato, ho parlato con una persona, ha rappresentato il proprio problema. 14 mesi racchiusi in una certezza, lo Stato c'è, il prefetto di Roma Gerarda Pantalone va in pensione e fa un bilancio, occupazioni abusive e sgomberi, problema sociale lo definisce, rifiuti e lockdown i grandi temi di questi mesi con le conseguenze del covid che ora sono usura e distorsione e così è in arrivo una piattaforma internet, annuncia in collaborazione con la Camera di Commercio per scoprire subito i segnali di infiltrazioni mafiose nell'economia, in pensione ma in realtà ancora lavoro. Lavorerò alla Corte dei Conti e quindi c'è già in itinere un provvedimento e quindi incomincerò con lo stesso entusiasmo un altro lavoro.